Ciao a tutti da Chris Attigenza, curatore del blog, eccomi qui con i Peturbazione, ho detto bene? Esatto, Sommaso, ciao, salutiamo tutti gli utenti dei social network, salutiamo tutti gli utenti dei social network, ricompiamo i vostri siti, i vostri contatti, peturbazione.com e da lì ci sono anche tutti i link ai suoi. Ciao a tutti, Chris Attigenza, Peturbazione, dal primo maggio direttamente, sono tutti amici di YouTube, MySpace, Facebook, Twitter e tutti i social network. Ciao, ciao.